Start, 2, 1, booster ignition and liftoff! Bellissimo, 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 innoverà, 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 ma io non ho guardato nulla, ho avuto la possibilità di averlo dallo sviluppatore, ma nel momento in cui mi è arrivato lo stavo per comprare. Costava sulle 35,28€ su Instant Gaming. Non sapevo nulla del gioco e infatti voglio affrontare un video in cui vi mostro quali sono state le mie prime impressioni. Perché? Perché guardando il gioco, guardando quello che aveva da offrire, guardandolo semplicemente come lo state vedendo ora, il gioco potrebbe ingannare e farvi credere di trovare di fronte a una sorta di Diablo-like. Allora, di Diablo-like questo titolo ha essenzialmente la grafica, cioè più che la grafica, la visuale. Ma è totalmente diverso e anche come meccaniche è tutta un'altra cosa. Il gioco, appena l'ho iniziato a giocare, ho provato i primi minuti di gioco, a parte mi ha stupito che comunque era in gran parte tradotto e anche bene, mancano ancora alcune stringhe ovviamente. Il gioco non mi è dispiaciuto assolutamente, ma la cosa che mi ha ricordato più di ogni altra cosa è la sua affinità con i Souls. E ora lo andremo a vedere. Vi faccio vedere quello che ha da offrire e quali sono state le mie prime impressioni. Noi abbiamo la possibilità di creare un secondo personaggio o creare un reame. Il reame di prova ci consente di iniziare una nuova partita. Perché se noi creassimo un personaggio nel mondo già esistente avremmo un mondo praticamente vuoto. Perché fino alla fine del prologo i nemici non si rigenerano. In questo caso io sono adesso col mio personaggio principale in un reame rigenerato completamente da zero. Quindi in questo momento io ho il mio personaggio equipaggiato di livello 5, ma senza nient'altro e con un mondo completamente nuovo. Il gioco ricorda molto i Souls per il fatto che in questo gioco si fa la parata, si fa il pari, quindi insomma agendo col tempo giusto durante l'attacco del nemico lo si sbilancia, la parata e l'attacco normale. Oltre che l'attacco quello un pochino più intenso, oltre che l'abilità della spada che cambia da arma ad arma. Ma in questo caso se noi andiamo nell'inventario vediamo che abbiamo il volteggio con la X e le altre che non ci sono ancora e arriveranno. Ma un'altra affinità con i Souls, vedete che sotto il 7 e il 10 c'è scritto aumenta in base a il simbolino del braccio e che è la forza. Quindi la mazza del chierico aumenta in base a fede, infatti vedete che io ho fatto un po' di confusione perché ho aumentato anche la fede, anche la capacità del carico e così. Quello che cambia poi, cioè in un'altra affinità invece con i Souls, continuiamo con questo argomento, è il fatto che se io vado e vedete in basso che c'è il normale, se io disequipaggio un po' di roba, soprattutto le armature, vedete che divento leggero e quindi in questo caso se vado a fare la rotolata, adesso non ce l'ho perché vedete che sono molto veloce. Nel caso in cui io vado e riequipaggio tutto, la storia cambia. Vedete che già non sto facendo la corsa laterale, ma sto facendo una rotolata. Il gioco non è però totalmente come i Souls, quindi vi parlo di Dark Souls, è più simile a un Elden Ring ma molto più permissivo. Perché? Perché nel caso di morte l'unica cosa che andremo a perdere, dato che il gioco non ha anime, non ha cose da accumulare per poter salire di livello, si fa esperienza semplicemente completando quest, quest che sono tra l'altro riportate nel quest log, quindi è tutto abbastanza chiaro, ma perderemo la durability degli oggetti. Vedete che poi hanno una durabilità in basso, col simbolino del martello 100 su 100 in questo caso. E morendo torneremo all'ultimo falò. Il falò non è inteso questo falò, adesso sto aprendo, non è inteso questo perché questo è un tavolo da crafting a tutti gli effetti, quindi abbiamo la possibilità di cucinare piatti, ma quelle colonne di luce azzurra che si vedono in giro. Arrivando lì si salva la partita e in caso di morte da lì ripartiamo. Quindi non c'è un grande malus, diciamo, ha delle meccaniche stealth, infatti avanzando si fanno queste mosse qui. e gli oggetti sono totalmente randomici, ma una volta eliminati i nemici, almeno per quello che so, almeno all'inizio, non c'è un respawn dei nemici, ma c'è un respawn delle risorse, quindi questo ci invoglia a andare e farmare risorse. Le risorse ci serviranno per il crafting, questo è quello che vi dicevo, il punto di salvataggio. Quindi in questo caso posso andare e salvare la partita. Il gioco ha, diversamente da un diablo like in questo caso, una grandissima verticalità, perché nonostante il lato sud, quello che è verso di noi, che non è molto visibile, non è possibile riportare la visuale, il gioco ha una grandissima verticalità, quindi si può andare a scalare e scoprire nuove zone. Io stesso non ho trovato delle zone molto, anche solo nascoste di poco, ma vedete che in questo caso io sono praticamente morto, ma ho un cibo da mangiare, che mi ha salvato la vita in questo caso, ma non per molto, perché a breve morirò. No, è morto lui, ok, incredibile. Ho lootato, l'agonia, ho trovato un sacco di roba che pensate nella mia partita non avevo trovato, ma in questo caso vedete che c'è una scala da abbassare, io devo trovare il modo, scalando da qualche parte, di arrivare in cima e colpire quella scala in modo da creare una shortcut, una scorciatoia. Abbiamo un forziere anche qui, ho trovato un po' di roba, in questo caso torniamo indietro e possiamo andare al falò di prima. Il falò è inteso proprio come falò, non come punto di salvataggio, qua abbiamo qualcosa che non ho lootato. Non qui, qui posso ovviamente salvare nuovamente, tanto non rigenero assolutamente nulla. E l'impressione è stata senz'altro ottima per me, perché? Perché io non sono mai stato un appassionato di Souls, ma ho apprezzato l'immediatezza di Elden Ring, cioè il fatto che comunque si esplorava tanto, ma non era eccessivamente punitivo, cioè ti potenzi, poi bene o male, se hai un minimo di abilità con le mani ce la fai. E soprattutto morire con i boss faceva ripartire poco più indietro, quindi non c'erano notevoli aree piene di nemici da riaffrontare come succedeva per lo più nei Dark Souls. In questo caso io posso andare a cucinare questi usando le cose che ho raccolto, quindi in questo caso posso cucinare i cibi. E quindi c'è anche una gestionalità dell'inventario e delle cose che si possono fare. Quindi potete andare, rientrare in partita, ripoppano i funghi, ripoppano un pochino le carni di animali, i forzieri e quindi potete andare nuovamente a lootare un po' di tutto. Qua si arriva al forte, al forte ci sono i nemici, più o meno grandi. Ho avuto, ecco qua sono morto, così vi faccio vedere anche come funziona, non l'ho fatto apposto ovviamente. Ripartiamo da qua con dell'equipaggiamento un pochino danneggiato. Quindi in questo caso andremo nella spada e vedremo che è un pochino danneggiata. 90, 90, 90, 90 e 65 su 75 l'armatura. Abbiamo queste che sono degli slot per il crafting, cioè quando noi andremo vicino a un albero che è possibile tagliare o un punto dove è possibile pescare, si abiliterà la funzione pesca piuttosto che raccoglie risorsa. E anche lì andremo a raccogliere risorse importanti che sono minerali, legno, pelli e cose varie che verranno utilizzate poi nel crafting. Il crafting non è tutto qui perché una volta che arriveremo in città, ho preso la carpa adesso, poi dovremo comprare o trovare nei loot le ricette per craftare le varie cose, andando in città nell'altro mondo, quello dove siamo partiti prima, dove avete visto prima, nella città quindi alla fine del prologo c'è il fabbro, ci permette di potenziare gli equipaggiamenti, ci permette di andare a craftare ogni genere di cosa, di potenziare ogni genere di cosa, compresi i nostri slot di inventario. E sarà possibile, cosa molto bella per me, anche possedere, acquistare una casa e andare a arredarla. L'arredamento non sarà solo estetico, ma ci consentirà di avere delle cose in più, ci permetterà di craftare le cose in casa, di avere dei bonus. Questo è a grandi linee. Vedete qua, sembra una zona chiusa, ma in realtà se voi entrate trovate un segreto. E ne è letteralmente pieno. Spesso questi segreti vi permettono di scalare delle pareti e raggiungere delle zone, magari che prima non avevate visto, o che avevate visto ma avevano una scala sollevata, come quella che abbiamo visto prima. Vedete che... Se siete anche bravi nel perry, ovviamente dovete tenere d'occhio la barra verde... Ah, adesso ce n'è un altro. Anche lì dietro. Ok, dovete tenere d'occhio la barra verde. La barra verde e la stamina. La stamina è importantissima perché... Uh, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Mangio funghetto. Tenendo premuto posso andare a scegliere quale risorsa mangiare. Però ovviamente c'è un cooldown prima di poter utilizzare nuovamente una cura. E dicevo, io ho apprezzato veramente tanto Elden Ring perché appunto mi nascondeva tante cose. C'era esplorazione, c'era senso di progressione. Quello mi piaceva molto. Ovviamente avendolo giocato più di 60 ore non l'ho mai finito. Sono arrivato alla città, quella dell'albero. Però non avrebbe senso ricominciare oggi. C'erano tante cose che le avrei viste, già viste. Dovrei rifare i boss che mi hanno fatto comunque imparicare tanto. Ma mi fa piacere avere un qualcosa di simile per certi aspetti più semplici. Tra virgolette. Molte virgolette. Però vi devo dire che quando sono riuscito finalmente a battere il boss prima della città, che è stato veramente tosto, mi sono potenziato per bene, ho messo delle armature buone. Ho avuto una grandissima soddisfazione. Un senso di appagamento che è il fulcro che vi spinge a giocare giochi di questo tipo. Ovviamente, se invece siete abituati e cercate qualcosa di più simile a Diablo, dove ai livelli più facili potete, almeno all'inizio, potete cliccare, 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 lui picchia, 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 batte il mostro, andate avanti. Luoghi epici, per carità, però molto più semplici, dove fate più attenzione al danno e a diminuire il tempo con cui abbattete un nemico. Ecco, questo non vi piacerà sicuramente. Qua, vedete, questa è una porta di cui non ho ancora trovato la chiave, non l'avevo trovata neanche nella mia partita principale, però intanto ho preso anche un anello. L'anello io non l'ho mai avuto, neanche nell'altro. Anello di zanna roccia, resistenza al calore, resistenza all'elettricità, ok, ho delle resistenze. Ho preso anche un bastone contorto, che è un bastone a due mani. Quindi in questo caso noi dovremmo avere gli incantesimi. L'incantesimo consuma concentrazione. E quindi possiamo lanciare l'incantesimo al costo di 50 di concentrazione. Il problema è che poi dobbiamo, perché potrebbe essere una soluzione per tutti, dire, a picchio a distanza con gli incantesimi, no, perché gli incantesimi hanno la concentrazione che va caricata picchiando. Infatti come vedete, ce lo sto dicendo adesso, dobbiamo andare a picchiare col bastone da mago. Quindi diventeremo comunque corpo a corpo. Cioè picchiandoli riaccumuleremo la concentrazione necessaria. Vedete che in questo caso l'abbiamo finita, che è quella barretta arancione che c'è sopra quella rossa. E quindi dovremmo andare a picchiare fisicamente i nemici per poterla riaccumulare. In questo caso vado qui. Vedete che si sta riaccumulando. Quando ne ho 50 posso lanciare l'incantesimo. In questo caso non lo faccio, perché non posso. Non ne ho ancora abbastanza. Tanto mi... Uuuuuh, sono vivo, sono vivo, sono vivo, mangio. Lo picchio ancora un po', salgo a 50 e lo colpisco. Questo è un bastardo perché lancia... Stiamo giocando più o meno a darmi pari ora, ma... L'ho messo male. Devo mangiare. Ok. Questi sono veramente... E non li potete affrontare alla leggera. Comunque ci vuole un minimo di strategia. E queste sono le basi. Ovviamente non... La mappa è veramente stupenda da vedere, perché si apre man mano. Mentre se io adesso esco, esco al main menu, vado a riprendermi il reame, non quello di prova, ma quello mio principale, dove io sono in città. Vediamo. Reame. Vado a prendere il realm indie, quello su cui ho fatto la live. E posso andare a rivedere dove mi trovo. Adesso mi sta già caricando. Potrei creare un altro personaggio. Però vedete, questa è sacramente ed è la... Ci sono le attività. Poi posso sbloccarne perché in giro per la città già mi stanno chiamando, chiedendomi. Poi farmi... Vedete, questo è uno. La mappa è questa. Questa è la città. Tutta la città. E poi questa è la zona dove eravamo prima. Cioè siamo partiti praticamente da qui. Siamo andati qua dentro. Qua sono morto. Qua c'era il faro con il punto di salvataggio. No, era qua. Scusate, sussurro. Si potrebbe andare avanti qui. Qui abbiamo fatto il giro. Siamo entrati. Poi siamo arrivati qui. Siamo arrivati qua. Dove c'è il grande falò. Pensate che io ho vagato tanto tempo qui senza sapere, me l'ha detto uno di voi in live, che qua c'era una porta e qua c'era il fabbaro. Quindi qua potete andare. Poi pian piano la città salirà con voi di livello e quindi potrete andare a aumentare. Cambierà da quello che ho visto la città in base alle scelte, in base alle missioni e si potrà appunto acquistare anche la casa e quindi andare a avere un luogo personale dove poter riposare, dove poter potenziarsi. Il gioco è senzalto interessante ed è in early access, ma in questo early access dovrebbe avere uno dei tre capitoli, che poi comunque è già lunghissimo, così com'è. Ma da quanto visto c'è anche una... ci sono le missioni giornaliere e settimanali, quindi per tenervi incollati al gioco anche se è un early access, anche se ha un terzo del gioco. Ma soprattutto ci sarà il dungeon finale del primo atto, dove verranno generate stanze a caso con un boss, con un premio finale. Quindi diciamo che di cose da fare ce ne sono. Non so dirvi però se il gioco poi rimarrà... il salvaggio rimarrà anche dopo l'uscita del gioco. Quello non ve lo so dire. Ad ogni modo valutate voi, come valuterò io, se iniziare già adesso a giocarci ore ed ore ed eventualmente continuarlo quando uscirà o attendere addirittura l'uscita del gioco. Il gioco mi piace molto, mi piace particolarmente e potrebbe spingermi questo ad aspettare e non giocarlo più fino all'uscita. Il problema è che non so quanto rimarrà in early access, potrebbe essere sei mesi, potrebbe essere un anno, potrebbe essere di più. Quindi il gioco mi sembra già abbastanza ottimo per quanto sia, segnalino una pessima ottimizzazione. Io ho mai avuto problemi. Gira bene, ogni tanto si cala qualche effetto di luce, ma sono ottimizzazioni da fare. Ma a livello di aspetto tecnico, di solidità, al gioco non manca assolutissimamente nulla. È bellissimo. Quindi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se dopo aver visto questo video magari vi siete chiariti su quello che il gioco ha da offrire, se lo conoscevate già, se avete acquistato, se intendete acquistarlo, fatemi sapere qua sotto. Alla prossima e ciao ciao!